La partita è dura, loro sono una squadra forte in ripartenza, per un momento ci hanno fatto correre, però l'abbiamo letto bene e secondo me abbiamo fatto un'ottima gara nel Palacio, non abbiamo perso mai la testa, sempre infocati in quello che dobbiamo fare, cercare di trovare spazio e per fortuna abbiamo perso tre punti importantissimi per la classifica. Ho cercato prima l'escarico, poi quando non sono trovato nessun escarico ho cercato di fare la giocata, per fortuna è venuto bene, è un bel gol, ci ha portato il pareggio per andare nel secondo tempo con più fiducia, con la consapevolezza che la potremo portare a casa e così è stato. La squadra sta maturando velocemente, quello che vogliamo fare, le partite durano 95 minuti e quindi abbiamo imparato secondo me a giocare fino alla fine, senza molare, senza regalare nulla e quindi dobbiamo continuare per questa strada. È un campionato molto equilibrato, ci siamo tante squadre intorno a 4-5 punti e quindi questo vuol dire che la squadra che molla un po' perde, quindi siamo consapevoli, siamo nella testa, nella strada giusta per continuare e quindi bisogna continuare a lavorare.